Quanto è bella questa promozione? Fantastica, fantastica ragazzi. Veramente è stata un'annata straordinaria, un gruppo magnifico ed è un onore e un piacere averne fatto parte ragazzi. Andiamo, andiamo. La storia è stata una vittoria di gruppo, di gruppo, dei lavoratori, di tutti, è una roba incredibile. Grazie a tutti quanti, anche i tifosi e soprattutto, che ci hanno sempre sostenuto, dalla prima giornata all'ultima. Non ci credeva nessuno tranne noi, noi dentro lo spogliatoio del primo giorno ci erano detti partita o partita, lavoro, lavoro paga, paga, questa è la verità ragazzi. La dedica, Mario. No, la dedica, penso sia doveroso alla famiglia Stirpe. In questo momento. In questo momento che hanno avuto una perdita in famiglia, penso sia loro, il pensiero va loro.